benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di una squadra di fidati amici e collaboratori a fianco all'imprenditrice digitale nella produzione dei suoi contenuti dietro c'è una regia che seleziona gli scatti migliori i sorrisi più cattivanti le posizioni più consone e ovviamente c'è un gran lavoro di selezione dei brand e dei look che succede se invece a fotografare l'influencer più famose richiesta d'italia sono i paparazzi che viene fuori la ferragni più naturale una donna come tutte non per questo meno bene affascinante gli occhi strizzati per il sole i capelli arricciati dal sale le posizioni normali di chisichina verso il lettino sotto l'ombrellone il sedere piatto e non bello alto e sodo e ibiza la meta scelta per questo agosto dei ferragni e ce ne arriva al mare tramonti spettacolari e l'espressione buffe dei figli sono momenti da condividere con i fan poi chiara ci mette anche un pizzico di ironia buon ferri agosto a tutti quanti scrive nelle storie aggiungendo un cuoricino se il video ti è piaciuto lasciami un like iscriviti al canale e attiva la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video